E dalla curva dei contagi dipendono anche le riaperture delle attività commerciali. In Puglia ieri 36 nuovi contagi accertati, 8 i decessi. Aumentano invece i guariti. Siamo ieri a 612. La ripartenza sarà segnata dall'andamento della curva del contagio. Si riapre qualcosa, poco per molti, nel rispetto della distanza con l'uso di dispositivi di protezione individuale e con il divieto di assembramenti. Gli ultimi provvedimenti del governo concedono dal 4 maggio visite ai parenti, a patto che non abbiano le caratteristiche di una rimpatriata. Mentre saranno ancora vietati gli spostamenti da regione a regione, anche se sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Con massima precauzione sarà possibile uscire di casa non solo per lavoro, ma anche per fare acquisti. In tutta Italia oggi riaprono i cantieri pubblici e il 4 maggio quelli privati. Poi sarà il turno di parchi, negozi e ristoranti. Punto fermo restano le norme base di sicurezza. Le varie categorie stanno stilando protocolli ad hoc per garantire la sicurezza di personale e clienti. Il governo però è pronto nuovamente a un passo indietro nel caso in cui il numero di contagi dovesse tornare a salire. In Puglia poco più del 2,5% dei 1.294 test fatti per accertare l'infezione da Covid-19 risultato positivo. E' quanto si legge nel bollettino diffuso dalla Regione. In cifre si tratta di 36 nuove positività, di cui 8 registrate in provincia di Bari, 1 nella Bat, 10 in provincia di Brindisi, 8 in quella di Foggia, 5 in provincia di Lecce e 2 in quella di Taranto. Un caso è attribuito al di fuori della Puglia e uno invece in corso di attribuzione per quanto riguarda la provincia. I decessi sono stati 8, 1 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 nella Bat. Il totale dei guariti è di 612 persone. Il 77% dei positivi si trova a casa in isolamento, mentre solo il 21% è in ospedale, il 2% in terapia intensiva. Il 39% dei contagiati è asintomatico. In Puglia, in controtendenza al dato nazionale, il 51% dei positivi è uomo. E da oggi in tutta la Regione parte l'attività delle unità speciali di continuità assistenziali, USCA, per l'assistenza domiciliale dei pazienti Covid. Il sindacato dei medici però continua a chiedere non solo linee guida nazionali per il loro funzionamento e per la loro attività, ma anche che vengano garantiti ed effettuati tamponi sul personale sanitario. Richiesta che accomune i medici e gli agenti penitenziari che chiedono di essere sottoposti al test dopo che 15 persone, tra detenuti e personale che presta servizio nel carcere di Brindisi, è in isolamento sanitario per avere avuto contatti con un addetto alla consegna di derrate alimentari, risultato positivo al coronavirus. E dopo che una positività è stata registrata nel carcere per minori di Bari, dove c'è anche un caso sospetto.